Ciao a tutti, sono Reggie Cox e vi parlerò del nuovo prodotto della linea Maniacline, Waterless. Attraverso le nostre ricerche abbiamo scoperto che questo prodotto era necessario per la linea Maniacline. Quindi com'è? Ve lo dico subito. Waterless, di cosa si tratta? È un sistema per pulire l'auto senza l'uso di acqua, proprio come dice il nome. Tuttavia deve avere determinate capacità. Deve pulire l'auto senza graffiarla. La lubrificazione e il tempo di evaporazione devono essere molto lenti. Deve garantire protezione ed effetto lucido in un'unica soluzione e per questo è necessario avere microfibre di buona qualità. Waterless è molto facile da usare, con una diluizione di 1 a 10. Si avrà un tempo di evaporazione lenta, riducendo la possibilità di creare segni durante l'applicazione. La protezione che offre permetterà alla polvere di posarsi meno sulla superficie. Ed infine, ma non meno importante, è per autoprotette e non protette. Aggiungerò alcuni trucchi per questo prodotto. Le due diluizioni da utilizzare sono 1 a 5 e 1 a 10. La parte più importante del waterless non è il prodotto in sé. È il modo in cui si toglie il prodotto. Per questo lanceremo presto un panno multiuso che non avete mai visto prima. Questo farà arrossire le aziende produttrici di panni. Se lavori al sole dovresti spruzzarlo sulla superficie per raffreddare la vernice e ottenere il massimo tempo di lavoro grazie alle capacità di assorbimento di questo prodotto. Quindi anche in presenza di luce solare diretta non si verificherà alcun problema. La differenza tra waterless e un quick è la quantità di prodotto usato e il tempo di asciugatura prima di rimuoverlo. Mi chiamo Reggie Cox. Grazie e ci vediamo presto.